E' stata la musica del violoncellista Francesco Dillon ad aprire ufficialmente la quarta edizione del Festival Voci della Montagna, in uno degli scenari più suggestivi del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. A Pescasseroli il festival, dedicato quest'anno alle consonanze, ha richiamato centinaia di appassionati, con l'intanto di ascoltare buona musica, parlare di filosofia e respirare aria pura, in un contesto naturalistico tra i più stimolanti della catena appenninica. Una dimensione tutta nuova per la musica che esce dai teatri e sale in alta quota. Si tratta di un'occasione unica per un musicista di uscire dal teatro, di scendere nella natura in questo caso, ma questo è anche un modo di far uscire la musica da una dimensione più, se vogliamo, più formale, più museale. Qualcosa che a me personalmente interessa molto, mi piace molto, senza la retorica di tutto quello che c'è intorno, ma appunto portare la musica fuori in armonia con quello che c'è intorno, anche per chi ascolta, è un'occasione straordinaria. Quindi non potevo perdere la chance. In tema di consonanze l'abbraccio tra musica e filosofia ha certamente caratterizzato il primo appuntamento di voci dalla montagna alla presenza del filosofo Vincenzo Sant'Arcangelo, ricercatore e studioso di estetica, che ha dialogato suavemente con la direttrice artistica del festival Elvira Di Bona, cullato dai colli bassi di Pescasseroli. Mi occupo personalmente di un approccio che si chiama ecologico alla percezione visiva. Ho tradotto il libro di un famoso psicologo americano che si chiama James Gibson. L'ecologia di cui parla Gibson non è l'ecologia di cui sentiamo parlare quando si parla di salvaguardia della natura o di ambiente, ma ha molte tematiche in comune. L'ambiente di Gibson è l'ecosistema in sostanza, è l'ambiente in cui noi ci muoviamo e facciamo cose. Una delle cose che si possono fare in questo ambiente è suonare uno strumento.